Buongiorno piccole verdi gioie, bentornati e bentrovati sul canale, qui parliamo di piante da interno e da esterno. Oggi per il video di questa settimana vi parlerò di questa pianta. Vi dico come curare, come prendersi cura e quali sono gli step fondamentali da fare appena ci consegnano una pianta da curare o quando ne troviamo una abbandonata. Banda le ciance e via col video! La prima cosa che dovete fare quando come me la trovate è una cosa fondamentale di massima importanza isolarla. La pianta va isolata perché non sapete che patologia ha avuto, non sapete che cosa ha passato questa pianta, quindi evitiamo innanzitutto che questa pianta ci contagi tutte le altre. Quindi mettetela in un luogo dove abbia luce, ovviamente in abbondanza, ma dove non ci siano a contatto o vicino le piante. Io in questo caso l'ho messa in bagno. La seconda cosa che ho fatto, la seconda cosa da fare è controllare l'apparato radicale che ha, quindi svasare, controllare le radici, tagliarne se ci sono di marcia, in questo caso per fortuna ce ne erano pochissime, mettere un pochino di cannella in polvere per evitare che i funghi entrino appunto dal taglio appena effettuato e ovviamente rinvasare. Questa aveva in particolare un vaso molto grande, probabilmente era il figliolino di una monstera più grande, quindi alla fine è stata messa fuori con un vaso gigantesco. A parte che ci ho guadagnato un vaso bellissimo in terracotta, quindi grazie a chi l'ha buttato. Come rinvasiamo? Rinvasiamo col terriccio giusto, mi raccomando, quindi tutte queste operazioni fatele quando avete tutti i materiali, sia la dimensione del vaso corretto che il terriccio giusto. Per i terricci vi lascio il link qui sotto in descrizione perché ho fatto un video. In questo caso ho utilizzato un terriccio per arace molto drenante, fatto con bark, perlite, terra ricca perché questa pianta ha sicuramente bisogno di nutrienti che di sicuro non ha avuto ovviamente nella sua precedente casa. Quindi una volta che noi abbiamo svasato la pianta, controllato le radici, buttato via il terriccio vecchio, non vi fidate, non lasciatelo perché potrebbero esserci marciumi, funghi e chissà che cosa nel terriccio precedente, quindi quello buttatelo. Cercate di liberare più radici possibili senza danneggiare la pianta, quindi in modo molto delicato. Magari mettetela in ammollo un pochino nell'acqua, quello vi può dare un aiuto per togliere la terra. Se avete visto problemi radicali, avete tagliato le radici, avete messo la cannella, allora potete rinvasare con terriccio giusto, come ho detto prima. Una volta fatta tutte queste operazioni, quindi quando avete rinvasato al meglio la vostra pianta, cosa bisogna fare? Io faccio sempre un trattamento preventivo con un prodotto che ha una triplice azione. È acaricida, fungicida, perché ovviamente non sappiamo che cosa ha vissuto questa pianta. Questa pianta in particolare aveva un problema di tripidi, quindi ho fatto un trattamento anche con lo spinosad. Il tripidi lo vediamo sulla foglia, è proprio un segno molto riconoscibile. Tutti questi trattamenti li ho fatti in contemporanea e tutte queste azioni le ho fatte appena portato a casa la pianta, perché avevo tutto. Quindi se non avete tutto, procuratevi le cose e poi agite il prima possibile. Mi raccomando, bisogna essere molto tempestivi perché la pianta è già in sofferenza e ha sicuramente bisogno del vostro aiuto. Poi ovviamente dovete dare alla pianta tutto quello che le serve come una buona illuminazione. Io ho atteso in realtà qualche giorno prima di innaffiarla, perché le radici avevano un problema di marciume radicale, quindi le avevo tagliate. E non innaffio mai le piante su cui ho fatto dei tagli sulle radici, anche se ho messo la cannella. Perché fare un'irrigazione in questo momento potrebbe darle il colpo di grazia. Quindi aspetto sempre qualche giorno, a meno che la pianta che trovo non sia completamente assetata e secca. In questo caso mi comporto al contrario. Quindi prima l'ha idrato, prima le do l'acqua di cui ha bisogno e poi faccio tutte le altre azioni. Quindi dovete distinguere queste due cose. Ok, in questo caso la terra era zuppa, quindi ero sicura che non avesse bisogno di acqua. Una cosa che non faccio mai è concimare immediatamente la pianta. Perché? Perché la pianta è già in affaticamento. La pianta sta già cercando di sopravvivere, poverina. Sta già cercando di lottare magari contro il marciume radicale. E' stanca, spossata da magari tripi di funghi, cocciniglia, da una serie di altri problemi. E quindi non va assolutamente concimata. Potrebbe essere il colpo di grazia. Cosa bisogna fare? Bisogna darle le condizioni ottimali. Quindi tanta luce, mai sole diretto mi raccomando. Perché le foglie si potrebbero bruciare, a meno che non sia un cactus spinoso che invece la luce diretta la sopporta più che bene. Quindi insomma metterla in quelle condizioni di agiatezza finché non ci dà un segnale di vita. Quando la pianta ci dà un segnale di ripresa, che può essere una radice come questa che è cresciuta, un inizio di fogliolina, una nuova gemma, ecco allora, oppure una nuova radice aerea come può essere per l'orchidea. Quando la pianta mi dà segni di ripresa, io concimo, leggo la dose sull'etichetta e poi faccio la metà. Mi comporto come le baby plant per non essere troppo invasiva su una pianta appunto in ripresa e poi la concimazione successiva, se vedo che va tutto bene, ricomincio con le concimazioni. Concime no, ma biossimolante sì e vi consiglio di darlo ovviamente per vi affogliare se abbiamo tagliato, abbiamo rinvasato, abbiamo toccato le radici o se c'è un marciume. Ovviamente così non dobbiamo innaffiare per forza. Il biossimolante come Sinagon, l'Algatron, ma ce ne sono tantissimi in commercio, aiuterà la nostra pianta e le darà un pochino più di forza. Se la vostra pianta ha foglie marroni e secche, non tagliate tutta la foglia. Vi faccio l'esempio su questa che ho tagliato, ovviamente questa era molto più grande ed era quasi completamente marrone. Ho tenuto questa parte e non ho tagliato la foglia. Innanzitutto perché la foglia è l'ultima foglia nata questa, quindi da qui poi spunteranno le nuove foglie. Un pochino, si vede già qui il rilievo. Ok, quindi tagliarla in questo caso avrebbe causato alla pianta uno sforzo maggiore per poi buttare una nuova foglia. E poi per un altro motivo, anche se non fosse stata la foglia l'ultima nata, l'avrei tagliata comunque in questo modo, perché da questa strisciolina la foglia fa comunque fotosintesi, quindi è un aiuto in più per la pianta per fare fotosintesi. Potevo anche lasciarla marrone, sì, ma avevo paura che continuasse a seccare. Ho tagliato anche questa foglia qui, come vedete, e ovviamente sul bordo che ho tagliato ho dato un filino di cannella anche in questo caso, perché è meglio una foglia parzialmente verde, quindi tagliata, che una foglia appunto che non c'è. Questa invece è la radice che sta crescendo molto bene ed è cresciuta anche, è cresciuta ulteriormente dopo la storia di Instagram. Vi faccio vedere anche il terriccio, come vedete è ricco di perlite, bark, zeolite, pomice di varie dimensioni, ma sul terriccio vi faccio proprio, vi lascio il link in descrizione. Sta iniziando a crescere anche questa piccola radice e devo dire che sono speranzosa. Questa pianta non ha per fortuna né cocciniglia scudetto né cocciniglia cotonosa, quindi è una pianta abbastanza in salute, diciamo. Era una pianta recuperabile. Se incappato ovviamente in questi problemi dovete immediatamente pulire la pianta perché la linfa degli alberi è il loro cibo e quindi la pianta viene debilitata in modo molto molto veloce e repentino. Devo dire che io ho salvato parecchie piante, la cocciniglia scudetto non mi è mai capitata per fortuna perché è veramente dura da debellare, è un pochino come i tripidi. Dei tripidi vi lascio il video qua sotto, se invece volete un video specifico su altri parassiti scrivetemelo nei commenti. Mi intestardisco parecchio, come dicevo, e spesso le salvo le piante. Non so esattamente se è fortuna, se è bravura, questo non ve lo so dire. Forse, non lo so, mi metto proprio in contatto, in empatia con la pianta e probabilmente la capisco. È una cosa che va allenata, non è una cosa che ci nasce così. Più piante avete, più ne salvate, sicuramente più diventerete brave. Non le possiamo salvare tutte, mi rendo conto, anche io ho dovuto abbandonerle al cura. Pazienza. Bene, spero che questo video vi sia stato utile per capire come comportarvi. Se un giorno troverete una pianta anche voi, o se qualcuno vi affida una sua pianta, per provare a salvarla. Se avete domande, scrivetemele qui sotto ovviamente, o su Instagram, mi trovate tranquillamente sempre come piccoli verdi gioie, risponderò il prima possibile. E niente, noi ci aggiorniamo, vi farò un altro video per vedere l'evoluzione di questa piantina. Ovviamente se vi interessa, fatemelo sapere nei commenti. Per ora è tutto, io vi do un bacione. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Dalla Patti è tutto. Ciao!